Benvenuti su Gossip Ita News 2.0. Prima di svelarvi gli eventi di oggi, vorremmo chiedere il vostro sostegno. Un semplice gesto come mettere, mi piace, a questo video e iscriversi al nostro canale rappresentano per noi un segno di importanza immenso. Grazie di cuore, Enzo Iacchetti ha sviluppato la sua carriera a Luino dopo aver preso la decisione di lasciare l'Agenzia di Viaggi Globusti di Lugano nel lontano 1978. Iniziò la sua carriera presso Radio Tresa, una piccola stazione radio libera di Lavena. Iacchetti ha fatto la sua gavetta come intrattenitore, esibendosi in occasioni come battesimi e matrimoni, oltre a lavorare in pizzerie durante festeggiamenti. Durante un'intervista estesa in occasione del suo settantesimo compleanno, Enzo Iacchetti ha condiviso dettagli significativi della sua vita. Ha iniziato la sua professione di attore comico nel 1979 presso il Derby Club di Milano, per poi collaborare con il Maurizio Costanzo Show. Da lì, ha intrapreso una brillante carriera. Un momento indelebile nella giovinezza di Iacchetti è stato quando un regista del suo paese gli chiese se poteva prenderlo per una parte in uno spettacolo. Con il consenso di suo padre, Enzo si ritrovò sulla ribalta e cominciò a parlare senza sosta, incapace di stare in silenzio. Questo fu il momento in cui il comico comprese la sua vera vocazione nella vita. Tuttavia, Enzo Iacchetti condivide un profondo senso di colpa legato al fatto di non aver mai parlato con suo padre e di non essere mai andato a trovarlo. Questo senso di colpa lo ha accompagnato per tutta la vita, anche dopo la morte prematura del padre. Ecco come lui stesso lo descrive. Mio padre è deceduto quando avevo 21 anni e non andavamo d'accordo. Ancora oggi, ho una profonda sensazione di colpa che persiste.